Veramente la vittoria di tutta la comunità educante, abbiamo cercato di creare nella scuola proprio un luogo di benessere, dove si sta bene con una didattica innovativa in un ambiente nuovo, moderno e stimolante. Dopo mesi di intenso lavoro, l'Istituto Comprensivo Cesalpino di Arezzo si è così trasformato in un'opera d'arte vivente, grazie all'intervento di riqualificazione svolto dagli stessi studenti sotto la direzione artistica di Donatella Bidini e delle insegnanti di arte dell'Istituto. E' la terza scuola questa che viene riqualificata, abbellita dopo la scuola 4 novembre, la scuola Santetani e non sarà l'ultima perché ci saranno altri progetti nel corso dell'anno per dare colore appunto alle scuole e rendere i luoghi più belli, più vivi con il coinvolgimento principale chiaramente dei ragazzi e delle loro famiglie. Una scuola a colori per garantire un ambiente inclusivo e stimolante dove ciascuno può sviluppare le proprie abilità in un contesto di supporto e accoglienza. Perché questo possa diventare sempre meglio e sempre di più non soltanto uno spazio di educazione e formazione ma uno spazio di comunità, fatto insieme con attenzione dove il bello diventa una grande strada di coesione sociale. Le prossime aggiunte di strumentazioni digitali grazie ai fondi PNRR potenzieranno una didattica moderna e di alta qualità. Parallelamente stiamo portando avanti un percorso di ammodernamento, di riqualificazione, di manutenzione straordinaria di quello che è il plesso che oggi ha la scuola Cesalpino e un lavoro importante che sta portando avanti attraverso i fondi PNRR la riqualificazione completa. Abbiamo già fatto un primo intervento che riguarda la riqualificazione del tetto e la riqualificazione di quelle che sono le pareti esterne. Progetto che poi interventi che poi si sposteranno anche all'interno delle aure andando a sostituire tutte le pavimentazioni e i contosoffitti e soprattutto gli infissi. In maniera tale da dare una scuola ancora più accogliente ai ragazzi. Ricordiamoci che stiamo parallelamente ancora portando avanti il progetto della realizzazione della nuova scuola media Cesalpino che è anch'essa finanziata dal PNRR e darà finalmente la nuova scuola nella localizzazione storica di questa scuola.